Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e la gente stava ad osservarlo. Gesù, vedendo come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato ti dica, amico, passa più avanti. Allora ne avrai un'ora davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato.